Dovevi andare alla polizia, bisogna andare alla polizia. No, la polizia no, perché ci ha trovato un biglietto in tasca alla bambina. C'è scritto di non andare dalla polizia, quindi se la viene a riprendere. La bambina è la figlia di mia nipote che l'ha lasciata per qualche giorno. Sai dove la ferma quella per i bambini quando si manda il pallonino? Forza Juve! Non mi chiamo un altro zio, in più che c'è la pivellina adesso. Non ho capito niente! Oh, 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 oh! Ciao! 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 Grazie a tutti.